Mentre ieri il tema ACS surriscaldava gli animi tra i banchi del Consiglio Comunale, il procuratore aggiunto Vincenzo Donofrio aveva già disposto un ulteriore sopralluogo presso la sete dell'azienda Città Servizi disponendo l'acquisizione di ulteriori atti. Come vedete dalle immagini, questa mattina è il blitz di una decina di agenti della squadra mobile tra le mani degli investigatori, nutriti i faldoni di documenti contabili e amministrativi che riguardano la gestione dell'ACS nel periodo successivo allo scorso luglio del 2015, periodo in cui si registrò il primo intervento dell'autorità giudiziaria che portò all'emissione di nove avvisi di garanzia. Ulteriori atti acquisiti che finiranno sotto la lente di ingrandimento della Procura. Documenti che si riferiscono all'affidamento di incarichi a parte riguardanti le aree di sosta, la manutenzione del verde pubblico e per la pulizia delle aree. Gli inquirenti vogliono verificare se nonostante l'azione giudiziaria l'amministratore dell'ACS e gli altri indagati avessero continuato nei loro rapporti di legalità con le cooperative in attesa delle decisioni del riesame previste per il 25 maggio sulle misure cautelari che hanno interessato sei persone indagate accusate di peculato, corruzione e abuso d'ufficio. L'azione della Procura va avanti a testa bassa e non si escludono altri colpi di scena. L'indagine condotta dagli agenti della squadra mobile coordinati da Marcello Castello punta a fare piena luce sullo scandalo che ha scosso l'azienda Città Servizi provocandolo pochi imbarazzi e tensioni a Palazzo di Città. Non è escluso che in merito il materiale acquisito stamane la Questura ascolterà altre persone ritenute dagli inquirenti importanti per definire ulteriormente il sistema di distrazione di fondi a beneficio di cooperative amiche utili anche per un consenso politico. La bufera sull'accesso non si placa e nei prossimi giorni la Procura potrebbe mettere almeno altri quattro avvisi di garanzia. Lo scandalo tende ad allargarsi l'inchiesta non molla la gang del sistemone e al comune i veleni sono all'ordine del giorno.